Arrivano i primi punti anche in trasferta per la LPR Volley Piacenza che sbanca Molfetta ancora una volta al tiebreak, il secondo consecutivo dopo la vittoria di domenica in casa contro la Calzedonia Verona. Un'autentica maratona in cui i biancorossi sono riusciti a ribaltare uno svantaggio iniziale di due set e a vincere al quinto parziale in una partita al cardiopalma. Gli uomini di Giuliani avevano sbagliato l'approccio alla partita, sono partiti male, molto contratti, ma sono poi riusciti a correggere in corsa grazie alla crescita di alcuni suoi attaccanti, in particolare l'ex di turno Hernandez che è stato fischiato anche dal suo vecchio pubblico. Buona la prova del francese Clevenot e anche del palleggiatore cubano in Rizzuelo, anche lui un ex di turno. Fondamentale la determinazione al servizio e in difesa nei momenti clou del match. Con questa vittoria, la seconda consecutiva, Piacenza continua la sua scalata alla classifica e si issa a 4 punti agganciando proprio i pugliesi. Ora però serve continuità e qualche vittoria da 3 punti per agguantare quanto prima i quartieri alti che competono a questa squadra.